Sì, è proprio questo, Marti. Sì. Ma qui è un mercato? Questo è un gioco di castano. Qua con due belli arancini. Arancino o arancina? Arancino. Allora, lei ha ragù e io ha prosciutto e mozzarella. E io lascio vedere quella. Sì, ciò, 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 ciò. Un po' di sano e shopping. Sì. Siamo twins qui. Votate, li compriamo o non li compriamo. Quanto siamo twins? Troppo. Siete uguali, si vede. Come hai fatto? Come hai fatto? Bravissima, vero? Un trabocchino. Wow. Il prossimo vestito di Martina. Sì, sì, bello, vero? C'è le bottine. O questo, con nano. Il nano è compreso nel vestito. Il nano è compreso nel vestito. Che nano è quello lì? Nano barbuto. Dotto. È nano barbuto. Ah, ok. Mi vuole fare un regalo stasera. Oh no, ho capito bene. Sì. Ho capito bene, sono andato che vuole prendere questo vestitino qui. Per stasera per andare a bailare. Oh no, questo qua dietro. Com'è? Mi sta bene? Sì, poi ti farebbe un balconcino di quelli proprio... E' quella qui presente, eh? Martinella la parte là. Non so cosa ho detto, vabbè, abbiamo appena fatto un po' di foto, quindi adesso ve le lascio qua tutte. A sequenza. Ci sono? Ancora non ci sono? Arrivano? Eccole. Vai. Un bel sorriso. Cos'è che ha preso la Martina barbuto senza la barba? Ah, una cioccolata, eh? La cioccolata di Tiffany. Certo. Certo, non è viziata. Foto? Se vedete in più? Vai, un'altra foto. Saludete, eh? Spera, ma saludete di più. Siamo qui con Martina. Siamo qui? Dove che siamo? American Graffi. Un bel posto americano. La scelta è ardua qui. La scelta è davvero ardua. Cosa prenderemo? Questa è sulle costine. Cosa prenderai? Voglio la tagliata di mano. La tagliata di mano. Ecco. Il Pasquale cosa prenderà? Il Pasquale. Non lo so, sto leggendo, ma qui mi sa che... E allora, che la faccia del l'ora, cosa prenderà? No, le costi si fa. Dì, ci farà una magia. Ah, non sa capace. Ah, lei ha detto che non sa capace. Dai, oh no. Andiamo. Non guardate. No, non me l'hai detto, vedi? Non riesco. Ciao Raffa, c'è l'infa, c'è l'infa. Non guardare. Sei gargogno, bimba. Com'è l'ha detto? Ti capito? Non ho fatto? Arriviamo a portare un regalo. Questa pesa eh, questa pesa, pesa tantissimo eh, grazie, me la metti, me la metti tu, è per Bresciallo? Bresciallo. I ragazzi che piacciono a Martina c'erano questi qua, i boy si chiamano, o i girl, ecco, guarda qua, spesso che la ordine la chiamano, consiglio per tutti, ma si tratta bene eh, certo, si tratta bene la bimba, buona, qui sono i fagioli di balsamo, o no, di chi sono i fagioli? Sono tantissimo, stasera papà ha detto che fai fuochi d'artificio di Capodanno in anticipo, Voleva assaggiare, voleva assaggiare, aspetta che ti faccio la foto di Anna Mamber, per Mark, grazie, questa è una bomba, Cresciclietti ancora? C'era Cresciclietti 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 E' di Lea E' di Pazzara Sono buono Buonissimo Questa è la challenge Vediamo se riuscirò a dare un morso Al panino senza tagliarlo E' grande quanto la mia faccia Può assaggiare? No, grazie, sto bene così Non ce la faccio Non so cosa ti perdi Non so cosa ti perdi Abbiamo trovato l'ordine Ma che si chiamava? Alapenius Sono di alapenius Sono giganteschi Ok sto per prendere il pezzo Dove c'è l'alapenius L'alapenius Non l'ho preso Non l'ho preso Sì che l'ho preso C'è l'alapenius C'è un peperoncino Si chiamava alapenius Un peperoncino Mexicano Texano Picantissimo Ciao Martino Cos'è l'alapenius Qui Vegas Un peperoncino Le funcino